novena a san giovanni paolo secondo primo giorno nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o dio viene a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto ti ringraziamo o dio padre nostro per aver donato alla chiesa e al mondo san giovanni paolo secondo egli con la sua fede ci ha guidato lungo la via che conduce a te ti chiediamo di mostrarci misericordia per sua intercessione o nostro amatissimo san giovanni paolo secondo prega per noi figli a te affidati dallo spirito santo ottiene ci aumento di fede di speranza di carità presenta al trono dell'altissimo le nostre miserie ed ottiene ci grazie o trinità santa ti ringraziamo per aver donato alla chiesa san giovanni paolo secondo e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della tua paternità la gloria della croce di cristo e lo splendore dello spirito d'amore egli confidando totalmente nella tua misericordia e nella materna intercessione di maria ci ha dato un'immagine viva di gesù buon pastore e ci ha indicato la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria quale strada per raggiungere la comunione eterna con te concedici per sua intercessione secondo la tua volontà la grazia che imploriamo amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male amen avevo maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen iscriviti al canale iscriviti al canale Grazie.